L'Eco Vicentino presenta Il mio volo Roma-Tokio. A cento anni dal ride, il racconto dell'impresa tratto dal diario di Arturo Ferrarin. Voce narrante Davide Dolores. Capitolo 14 Verso il Gange Dopo qualche giorno di permanenza a Delhi per rimettere l'aeroplano in condizioni di poter riprendere il volo dopo l'incidente nella notte d'arrivo, ripartì da Delhi verso Benares, sul Gange. Quando sono in volo sopra la grande città, è l'ora del primo sole. Delhi si allunga dolcemente sotto di me. Nelle sue strade europee ora incomincia la quotidiana vita d'ufficio e di commercio. I ricchi mercanti parsi già corrono attraverso la città, nelle loro portantine che sembrano piccole mosche in movimento. I segretari dell'ambasciata d'Inghilterra filano nelle automobili, consultando l'ultima relazione ricevuta da Londra sulla probabile data della sollevazione indigena contro i dominatori. Gli elefanti da Nolo cominciano a muovere le loro quattro enorme zampe verso la periferia, portando comitive di turisti tedeschi ed inglesi. L'enorme pachiderma s'avanza con un passo cadenzato, imprimendo alle quattro colonne della sua base un movimento regolarissimo e ritmico, come uno stantuffo che lo fa sembrare una gran macchina agricola in moto. Nei soborghi i colori incominciano la loro vita ed hanno nel mattino un'aria particolare di gioia, ma qui la vita si risveglia più lentamente. È ancora l'ora in cui si esaurisce la prostrazione mistica della notte, nella preghiera del mattino verso il sacro Gange, il fiume che guarisce tutti i mali, anche la morte. Fuori, sulla campagna, soltanto una punta del grande minareto di Kyube. È già piena di sole. Al di sotto, i marmi cesellati di porfido e d'oro incominciano a palpitare nel viola. Sono già in alto, già lontano da questa città che tiene una distesa di venti chilometri di terreno, tanto complessa, tanto caotica nei suoi agglomerati di razze, di secoli, di cose. Volo verso il Gange. Ma su Benares, la città favolosa, sacra alle acque, dove sulle grandi scalee di marmo che scendono giù, lungo le rive, prega quotidianamente una folla di pellegrini venuta da ogni parte dell'India, mentre bruciano sui roghi i fortunati che sono morti purificati dalle acque del fiume, non potrò volare. Un ultimo dispaccio dell'autorità indiana di Benares, non so quale, mi vieta di scuotere, con l'urlo del motore, l'aria dei sacri templi del silenzio e della morte. Lascio sulla sinistra il Gange e mi butto a sud, verso Agra, ma stormi di grandi avvoltoi tentano di attaccarmi coi loro artigli, fatti per dilaniare i morti. Li vedo da lontano giungere rapidamente, battendo le grandi ali ed allungando ibride teste. Per quanto non creda che mi possano dare molestia nel volo, pure preferisco non lasciare avvicinare troppo il gruppo dei divoratori di cadaveri e, poiché essi tentano un attacco su un fianco, quando me li vedo a pochi metri di distanza, piego l'apparecchio in virage, in modo che gli assalitori si vengono a trovare dietro la coda, dove il risucchio dell'elica li afferra tra le sue spire e li lancia in aria. Sono strane capriole, mosse buffe, colli di torti, sfarfallio di penne. La facile vittoria non mi entusiasma, perché ho un senso di invidia nel vedere con quale facilità, dopo aver fatto le più strane capriole nel turbine dell'elica, con un colpo d'ala, con leggero inclinare della testa o della coda, i grossi uccelli riprendono la loro linea di volo. Quelli sanno volare. Ancora gli ultimi avvoltoi mi seguono correndomi disperatamente a lato, allungando i loro colli in plumi come cavalli in corsa. Poi sono rapidamente lasciati indietro. Soffia ora, dalle montagne del nord, un vento piuttosto forte che, spingendomi di coda, aumenta la mia velocità. Il vento è impetuoso e tira con intensità costante, credo, in certi momenti, di raggiungere i 300 km all'ora. Vedo un treno sulla ferrovia Deli Calcutta, dal quale i viaggiettori agitano verso di me i fazzoletti e di loro cappelli bianchi. Sembra un treno di grandi fiori traboccanti dai finestrini. Lo raggiungo di coda e mi metto a lato, ma dopo pochi minuti il treno è sorpassato ed io proseguo da solo verso Agra. Paesaggio monotono e arido. Sono preparato a vedere Agra dall'alto, dalle descrizioni fattimi negli ultimi giorni degli ufficiali inglesi a Deli. So ormai tutti i suoi templi, le sue tombe, i suoi palazzi, che ho visti fotografati in tutti i sensi, esposti in una lunga serie di cartoline nella hall stessa dell'hotel. Ma quando, di lontano, vedo la gran massa dei marmi luccicare sullo sfondo nero dei cipressi e la bella reggia di marmo nero, bianco, rosa, dalle porte d'argento dell'imperatore del Mogol distendersi fra il verde con un senso di commozione abbasso il volo e lo rallento il più possibile su quella meraviglia di trine marmore che vista così dall'alto sembra abbia un senso strano di aspettativa il Taimahal la miracolosa costruzione innalza contro lo sfondo nero dei cipressi la sua cupola colossale ed i suoi quattro minareti esili come steli di palma ma basso per non variare la prospettiva meravigliosa di quella mole di marmo bianchissima che riflette nel vicino lago con calmo giuoco d'ombra e di luce tutto il lavoro di intaglio in onice nera che ne cesella l'immensa facciata e con lividi bagliori le porte d'argento istoriate coi versi del corano bianco di nuvola sul verde nero di notte sul bianco un tono d'argento una cupola quattro minareti zampillanti verso il cielo ecco il miracolo vero angoscioso quasi nella sua immensità dolce e melanconico come un sogno nelle acque riflesse tempio reggia tomba non so opera d'amore di vita e cheppure ha una tristezza mortale ma han detto che fu eretta da un vecchio imperatore in memoria di una sua sposa legittima morta dopo aver beneficiato lui ed i suoi sudditi di ben sette figliuoli ricordo familiare dunque consacrato alla memoria di una buona imperatrice onesta e prolifica madre dall'amore inconsolabile di un vedovo imperatore no questo tempio che sembra creato dalla fantasia del più morboso esteta in una notte di incubo doppio non può essere consacrato a perpetuare il ricordo di una onesta vita imperiale eppure è storia ma preferisco dimenticare la storia e costruire intorno al tempio meraviglioso attraverso quest'aria viola delle nevrasteniche leggende d'amore e di sangue per mio gusto personalissimo proseguo sulla pianura interminabile del deserto interrotta a quando a quando da risaie da qualche tratto di foresta lungo questo fiume che deve condurmi dal gange penso ad un'altra leggenda che l'ufficiale di tappa ha distrutta in me in un giorno mentre passeggiavamo sotto i lampioni elettrici di Delhi e del quale trascrivo le parole così come le ricordo perché se qualcuno tra i miei lettori avesse ancora l'anima poetica ingombra della leggenda del gange dovrà alla fine trovarsi con quel leggero senso di disappunto ironico col quale restai io dopo il seguente racconto caro amico tu vuoi sapere che cosa sia il gange benares i roghi dei morti le abluzioni nel fiume sacro te lo dico subito sono stato tre giorni fa a benares la città più sacra sul più sacro fiume arrivai a benares in barca una di quelle barche lunghe e piatte a due remi che si usano in quel paese il punto d'osservazione era ben scelto perché se per caso tu tentassi di raggiungere il fiume arrivando a benares dal deserto difficilmente giungeresti sulle rive attraverso l'intricato dedalo delle viuzze ritorte della città vicoli bui sporchi dove stagna continuamente un'acqua melmosa piena di tutti i rifiuti d'india la barca discendeva lungo il fiume lentamente costeggiando i gati che sono i punti di sbocco delle gradinate che portano al gange ai piedi di queste gradinate dalle quali discende con flusso continuo la folla dei pellegrini di tutta l'india escono dall'acqua dei capitelli dei grandi blocchi di granito sui quali sono incise delle grandi teste d'elefante le mille braccia di silva ed altri simboli sacri lungo la riva sopra le gradinate sorgono sul fiume altre centinaia e centinaia di templi di tutti gli stili e di tutte le epoche cupole guglie piramidi specule minareti pareti lisce e colossali bucate da qualche rara finestra ovale frontoni lavorati e traforati pieni d'arabeschi disegni simbolici di fregi che corrono modificando il loro disegno richiamandolo innestandolo su altri motivi su fino alla cima dell'alta cupola panciuta o dell'esile minareto maomettano stile ebraico buddistico bramino eurasico cristiano alcuni di questi templi rosi alla base dall'acqua rovinano altri antichissimi patinati dalla terra rossa delle rive conservando ancora la loro mole ed il loro aspetto di fortezza è il caos del marmo dell'architettura dei templi e delle religioni tra i marmi la folla più eterogenea che si possa immaginare uomini del sud facchili del nord santoni fanciulli macilenti donne idropiche gente di tutte le razze di tutte le età questo carnaio umano da malati e di pazzi questa piaga aperta coperta dai velluti e dalle sete più ricche ondula nei suoi mille turbanti e nei suoi mille veli dai colori delicatissimi è la mascherata del male e della morte spettacolo meraviglioso per un esteta o un colorista rievocazione babilonese o assira sulle grandi scalee di marmo sotto i cubi istoriati di granito fra le teste spezzate degli idoli eppure è triste e ributtante il vedere la morte allegra ubriaca ed infiorata quanti fiori poiché questa gente è tutta infiorata sono rose gardenie magnolie infilate come rosari portate a fascio tra le braccia appese al collo o come corone in capo questi morituri vestiti di seta infiorati come primavere pregano e guardano il fiume con uno sguardo smarrito e tranquillo quasi lieto poiché l'acqua del fiume santo risanerà le loro piaghe o darà il dolce riposo eterno dalla folla dei fanatici giunge fino alla barca un lezzo orribile la barca cammina urtando in mucchi di immondizie dove galleggiano ossa di cadaveri male abbrustoliti vediamo distintamente sulle rive la folla dei pellegrini che si spoglia lentamente sotto l'ombra di grandi ombrelli nudità bronze o d'alabastro contro il bianco dei marmi o tremolanti nelle acque viscide del fiume nudità perfette in tutto lo splendore della forza e della giovinezza e orribili nudità senili schifosamente ammalate con tutti gli aspetti orribili della morte il bagno sacro è pubblico le sante acque lavano i mali di tutti ed accarezzano e preservano dai mali le carni giovani e forti credi amico mio non è una cosa molto pulita quel vecchio gibboso e peloso come un cammello accanto a quella giovinetta esangue fa oggi forse il primo e unico bagno della sua vita finalmente girando lo sperone di una scalinata vediamo i roghi la nostra barca nel virare si accosta troppo alla riva ed investe un cadavere avvolto nel sudario circondato da ghirlande di fiori messo a bagno coi piedi verso il fiume per la purificazione finale tentiamo di scansarlo ma un remo lo urta con un piede e ne esce carico delle rose che avvolgono il morto e sollevando insieme un grosso cavolo che la corrente portava alla deriva ci fermiamo allibiti temendo lo sdegno dei parenti che hanno assistito dalla riva vicina alla breve scena ma i parenti continuano a restare con lo sguardo imbambolato guardano i circoli oleosi dell'acqua senza accorgersi dell'incidente occorso al caro defunto durante l'ultimo bagno finalmente i roghi ci accostiamo credendo di vedere fumate che salissero alte verso il cielo a disperdere nell'aria lo spirito mentre intorno ai bagliori lividi delle fiamme si compisse qualche misterioso e pittoresco rito nulla di tutto questo scusa la brutalità con la quale ti dico in due parole la scena ecco il quadro sotto la scalinata che strapiomba sulle acque torbide del gange sullo sfondo ciclopico dei graniti a ridosso delle grandi teste marmore e di silva dalle mille braccia s'allunga una serie di piccoli fornelli di calce e mattoni grandi meno di un letto per un uomo vivo coperti da una graticola di ferro a larghe maglie dentro ai fornelli bruciano a lento fuoco alcuni tizi di legno resinoso e dei grumi neri di carbone sopra arrostiscono i cadaveri meravigliosamente infiorati dei morti che hanno già avuto il conveniente bagno nel fiume intorno ad ogni fornello quattro necrofori vestiti di bianco come cuochi con delle lunghe forchette in mano ne sorvegliano la cottura accoccolati sulle gradinate i parenti del defunto guardano con soddisfazione pensando alla beatitudine eterna del fortunato un puzzo orribile un lezzo di peste sale in lenti soffi verso il cielo azzurro cupo bambini ignudi color del bronzo ruzzano da un fornello all'altro raccogliendo i tizioni ancora buoni al fuoco e li cedono ai necrofori dei fornelli vicini in cambio delle rose cadute ai morti nello spasimo dei nervi della combustione vendono poi le rose ai vivi che coprono la gradinata che se ne adornano ma la filosofia indiana mi si dice non lo so non la conosco ed è una cosa difficilissima da capire e che noi occidentali non afferreremo mai completamente per esempio perché questi indiani fanno tanti bagni dopo morti e così pochi quando sono vivi non ho potuto atterrare a Benares poiché l'autorità indiana me l'ha vietato in omaggio alla santità del luogo e temendo che volando sulla verticale dei roghi potessi disturbare le anime purificate dall'acqua e dal fuoco nell'inalzarsi rapidamente verso i cieli della beatitudine assoluta senza dolore e senza gioia atterraggio regolare ad Al-Habad sono stanco devo purtroppo riconoscere che la lunga volata mi ha esaurito è realtà vissuta od è un giuoco che io stesso ho creato con la mia fantasia è un male meraviglioso della mia anima questo volo non posso più reggere così i grandi silenzi martellati dall'urlo metallico del motore i geli squalli di dei monti le distese tropicali le foreste di sogno le solitudini mortali le angosce le folle deliranti paesi e uomini strani approfondire sensazioni creare l'immagine distruggerla superarla la vita e la morte così variamente sentita da popoli diversi la vita e la morte con aspetti nuovi sempre formidabili pazzia ho troppo goduto e troppo sofferto ho sentito troppe cose ma racconterò ancora i voli poi il trionfo se lo vivrò narrerò i fatti come li ho visti non più come li ho sentiti perché le cose non hanno più meravigliose risonanze in me l'anima mia è stanca di rimandare echi d'argento la vita è grande e bella vestita di porpora o d'oro nuda dall'abastro o di bronzo splendente nel sole palpitante sotto le stelle sussurrante tra i boschi errante all'infinito per un deserto di sabbia rovente morta nella forma del marmo e degli scheletri la morte quanti ricordi di morte ho trovati è un canto della vita sono tanto stanco ho distesa la mia vita per diecimila chilometri attraverso i cieli una produzione ecco vicentino in occasione del centenario del ride ideazione progettazione e coordinamento Maria Grazia Bonollo voce narrante Davide Dolores post produzione Andrea Grigolato Udu Andrea Grigolato three Grazie a tutti.